Musica Al Curcuma Caffè di Piazza Costanzi, a partire dalle ore 19 alle 23, si potranno gustare i drink accompagnati da musica per tutti i gusti. Abbiamo organizzato un evento collaborando con l'artista chitarrista Paolo Rem, che propone i brani che hanno fatto la storia della musica, pop, rock, blues e della musica italiana internazionale. Vi aspettiamo per una serata molto divertente dove si possono gustare i nostri cocktail speciali facendo un viaggio intorno al mondo. Al Mona Lisa invece in zona Pincio, a partire dalle 20.30, salirà sul palco Sylvia Wacht in Solo Act, chi dice che la chitarra è cosa da uomini. Un viaggio incontro con la musical femminile, che andrà da Johnny Mitchell a Janis Joplin, fino a Lana Del Rey, Billie Eilish e molto altro. Spostandoci all'ideale Food & More in piazza 20 Settembre, dalle 19 alle 21 torna invece l'aperitivo artistico in cui dare il libero sfogo alla creatività con Appennello. È una serata innovativa, intrattenimento pittorico, facciamo dipingere anche chi non ha mai preso un pannello in mano, durante un aperitivo in compagnia, si socializza, si beve e si mangia qualcosa. Il tema affrontato sarà Frida Fiorita? Noi suggeriamo Frida Fiorita in questo caso, in omaggio Frida Calo, ma ciascuno può dipingere quello che vuole. Questa collaborazione è nata dalla voglia di collaborare con una start-up giovane e innovativa, che come stile si accomuna molto alla nostra. Anche il nostro ristorante è molto artistico, sia nel proporre piatti della tradizione rivisitati, sia per uno staff giovane e brillante. E quindi ci siamo sentiti subito questo affiatamento, questa unione con questo gruppo di artisti che veramente fanno divertire in modo sicuro alla gente che viene al nostro ristorante. L'evento si ripete tutti i mercoledì, la prenotazione è obbligatoria, sia telefonicamente, presso il sito internet o presso il nostro locale. In piazza Andrea Costa, dalle 22.30 al Senzatempo Live Music Club, sale sul palco Montoya Live, cumbia elettronica accompagnato dal suo inseparabile violino. Alla mandria di Viale Buozzi, invece, questa settimana la serata sarà dedicata, dalle 20.30, agli hamburger di Angus Irlandese. Gli chef Samuele Ferri e Andrea Guiducci cucineranno all'antico bracere sotto gli sguardi curiosi degli ospiti con tanto di live music by Scarra Fanchi, Pino Daniele e Tribute Band. Infine, in piazza 20 Settembre, dalle 21.15, nei tre locali Bardin, Degusteria e 29 Caffè, le hits americane ed inglesi che hanno caratterizzato la musica degli anni Ottanta verranno riproposte in originali arrangiamenti acustici. Chi animerà la serata di domani per Bardin, Degusteria e 29 Caffè? Dunque, è un gruppo ovviamente di tutti gli artisti fanesi, si chiama The Ottanta, su Wonder Live, ovviamente faranno musica anni Ottanta, ci divertiremo, sarà una serata molto nostra, un po' per la nostra età, ma un po' per tutti, perché gli anni Ottanta ormai sono tornati assolutamente di moda, quindi è un gruppo adatto alla piazza e quindi un po' per tutti.